Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza. La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora, una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva, infatti, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo, chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero, tu vedi la folla che si stringe attorno a te e dici, chi mi ha toccato? Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse, figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire, tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga, non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di seguirlo, forché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro, perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse, Talitacum, che significa, fanciulla, io ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti dodici anni. Essi furano presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. È una pagina di Vangelo straordinaria. E nonostante l'ordine di Gesù, che nessuno impari questo prodigio, noi siamo qui a parlare di questo prodigio, perché ci riguarda. Ci riguarda da vicino. È una pagina, questa del Vangelo, che ha una struttura tutta particolare. Due storie intrecciate. Quella di una bambina gravemente ammalata, che rischia la morte, anzi, che poi morirà, che ha dodici anni, e dall'altra la storia di una donna che soffre di gravissime perdite di sangue. Allora, due storie, potremmo dire, parallele, autonome, ma però che hanno degli elementi in comune. Il primo elemento comune è che sono due donne. Dire donna vuol dire vita, vuol dire colei che porta la vita, sia fisicamente, sia con il suo atteggiamento, sempre di soccorso, di incoraggiamento. E del resto, è il nome che Adamo darà alla sua compagna. la chiamerà Eva, che è la madre dei viventi. Quindi dire donna significa dire anzitutto vita. E tutte e due hanno questa qualifica. Poi c'è un altro elemento comune, il numero dodici. Magari nella lettura frettolosa può anche sfuggire, ma dodici sono gli anni che la donna che soffre di perdite di sangue sta soffrendo. Dodici lunghi anni penosi. E la bambina, che poi purtroppo troveremo morta, aveva dodici anni. Il numero dodici. Però Marco sa benissimo che il suo lettore, quando si dice dodici, pensa alle dodici tribù di Israele. E poi l'altro elemento che mette in comune queste due vite parallele è il tocco. Il tocco che Gesù fa verso di loro, ma anche, per quanto riguarda la donna che perdeva sangue, il suo tocco, il suo approssimarsi a Gesù. Ecco, detto due vite, due vite parallele, con elementi in comune, ma siamo condotti a pensare che si tratti in fondo di un'unica persona. Perché è la nostra condizione. Tutti noi siamo venuti al mondo con una promessa di vita, ma però con la realtà della morte che incombe. Ma il lettore, stavo dicendo prima, il lettore al tempo di Marco vede nel numero dodici le dodici tribù di Israele che nella Bibbia sono configurate come spose di Dio. Allora c'è la sposa di cui i profeti denunciano le infedeltà, ma qui, per via di quel tocco, possono tornare ad essere purificate. E poi la bambina, dodici anni, nella cultura di allora era già pronta per il matrimonio. Ormai era pronta per generare, quindi candidata al matrimonio e a dare vita. L'incontro con Gesù per l'una e per l'altra donna ha il valore di una restituzione alla vita. Un altro elemento che mi sembra abbastanza importante è che queste due sono due storie di non fecondità. e il Vangelo allora ci racconta come Gesù sa entrare in questa situazione penosa, difficile, di morte potremmo dire e ci sono vari passaggi. Intanto tutto comincia con un grido di invocazione. Giairo va da Gesù soffre molto per la figlia. Starei quasi per dire ma forse molti di voi credo possano darmi conferma quando sei tu che soffri soffri sei disperato finché vuoi ma fino a un certo punto perché hai sempre la speranza di avere la tua sofferenza la tua malattia tra le tue mani puoi gestirla ma quando è una persona cara che soffre che patisce e che non c'è umanamente speranza e tu sei legato con quella persona è ancora più sofferenza perché non ci puoi far nulla assisti impotente a a un disfacimento ebbene tutto comincia allora con un grido il grido di Giairo Gesù allora è invocato è pregato da questo padre e si mette in cammino e c'è anche tutta la folla che segue Gesù che è lo osanna che è curiosa mettiamoci anche noi fra quella folla anche noi che è il nostro grido del cuore l'altro elemento che ci sorprende è l'inserimento della seconda storia qui però non è Gesù che va incontro alla sofferenza e alla morte ma è la morta che va verso Gesù questa volta ed è questa donna piena di vergogna di timore di imbarazzo è stata già abbastanza sfacciata a comparire in pubblico nonostante così tutta questa gente no? e si avvicina a Gesù ma di nascosto tocca il mantello di Gesù il Vangelo ci dice che Gesù se ne accorge e guarda tutti intorno chi mi ha toccato qui si potrebbe fare una piccola precisazione sul valore del mantello e sul significato di quel tocco certamente il mantello ha un grande significato ricopre la persona è quasi il prolungamento della persona è la persona come noi la percepiamo il vestito ha la sua grande importanza anche la moda è importante in qualche modo perché interpreta la persona un giorno San Paolo dirà che ci dobbiamo rivestire di Cristo e quel tocco come vedremo fa sì che quella donna si riveste di Cristo la morte è sconfitta dalla vita che Gesù le dà quella donna ha cercato tutti i mezzi possibili immaginabili per curare il suo male ha contattato medici ha speso soldi Gesù quasi per così dire l'ultima spiaggia e è audace lo tocca sa che sta facendo una cosa sbagliata perché anche Gesù contrae impurità al suo tocco era già di per sé un'audacia che una donna nel suo ciclo si avvicinasse è un uomo ma questa qui soffre di questa emorragia Gesù la lascia fare ecco per me questo mi commuove tantissimo perché per Gesù non esiste l'impurità sì possiamo commettere azioni cattive impure malvagie ma l'uomo non è impuro di per sé e anzi Gesù si potrebbe quasi dire che assume su di sé quella impurità rituale e non posso non fare riferimento alla croce quando Gesù verrà crocifisso spargerà tutto il suo sangue si svuota della vita lui è permettetemi il termine l'emoroisso che prende su di sé la sofferenza la malattia la morte riprendiamo il cammino di Gesù verso la casa di Jairo e Gesù quando arriva nel cortile nella piccola piazzetta vede strepito grida urla piangono ecco e Gesù qui dà un grande insegnamento spiega che lui non è d'accordo che noi viviamo la morte come la fine di tutto certamente il distacco è distacco ma per Gesù c'è un'altra dimensione uno potrebbe dire ma perché Dio non interviene non guarisce non ridà la vita subito alle persone care qualche settimana fa una persona una nostra ragazza ha perso la vita in un incidente ma Dio non può si contraddirebbe perché Dio disumanizza l'uomo se gli toglie la dimensione della morte biologica fisica in fondo Gesù prende proprio per questo nella stanza mortuaria i genitori il papà e la mamma voi avete dato la vita che bello una creatura messa al mondo ma l'avete messa nelle braccia della morte adesso io vi svelo che c'è un'altra dimensione è una vita che va oltre quella biologica e chiama i tre discepoli perché siano testimoni della sua potenza vedete che il mistero pasquale anche qui ma tutto il Vangelo di Marco è così il mistero pasquale attraversa la narrazione e in conclusione cosa vi propongo per questa settimana c'è una frase che certamente non vi è sfuggita quando la donna viene vista da Gesù e Gesù dice chi mi ha toccato e lei gli dice tutta la verità ecco noi questa settimana ci proponiamo di fare una preghiera sempre più vera sempre più di relazione di rapporto dire tutta la nostra verità a Gesù senza paura senza paura perché lui ci conosce più di quanto noi non conosciamo noi stessi allora questa è una preghiera autentica dire a Gesù tutta la nostra verità ciao grazie a Gesù Grazie a tutti.